un shop settembre 2010 altro modello nike di basket retro delta force per la prima volta proponiamo una delta forse nel nostro punto vendita tomaia in pelle bicolore bianco e grigio e poi tutti i dettagli di questo rosa molto acceso la striscia della parte posteriore della scarpa tutto l'interno e poi questo stitch sulla sulla tomaia e rinforzi in gomma per il passaggio dei lacci spush grigio qui in una pelle battuta pannelli laterali in pelle traforata per una maggiore traspirazione della scarpa move shop nike delta force per le consegne di settembre 2010